Primo incontro di un ciclo di eventi, quello svolto di Sistamane, prezzo Palazzo Dalì, alla Fuglio Sodano a Trapani, sul dibattito, gli effetti della politica di coesione sul territorio regionale. Lo Europe Direct in prima linea al fine di formare, informare, tutti i soggetti di cittadinanza attiva. Abbiamo sentito i nostri microfoni, Gioacchino Perricone, Patrizia Picciotto, Andreana Patti e Marta Ferrantelli. A voi servizio. Un importante strumento per raggiungere la strategia dell'Europa 2020. Dobbiamo più guardare alla politica di coesione del 21-27. I fondi nazionali che in un'unica strategia perseguono di raggiungere gli obiettivi per cercare di colmare questo divario tra le regioni più sviluppate e quelle meno sviluppate in Sicilia. Un legame molto forte tra le risorse nazionali e le risorse comunitarie per l'obiettivo strategico che vogliamo perseguire. Evidenziare gli elementi innovativi del processo di costruzione delle strategie e soprattutto proprio dell'identificazione delle aree interne e metteremo però anche in evidenza le criticità di questo stesso processo. Criticità soprattutto di carattere attuativo non sono da poco. Un'occasione per parlare di agenda urbana e di politiche territoriali nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020. Ci sono una serie di interventi previsti in questa programmazione per le città che costituiscono il gruppo della Sicilia occidentale che è capitanata dal comune di Marsala e che compone e composta l'agenda urbana di Mazzara del Vallo, Castelvetrano, Marsala, Trapanierice. Una programmazione che parte da una strategia di sviluppo urbano sostenibile che ha una dotazione finanziaria in programmazione di circa 90 milioni di euro. Questo presuppone però un'accelerazione nelle procedure di attuazione stante che ormai siamo alla fine del periodo di conclusione di questo ciclo di programmazione quindi dovremmo passare immediatamente all'attuazione. Analizzeremo la politica di coesione e il confronto rispetto alle risorse finanziarie che arrivano dall'Unione Europea sul territorio della regione Sicilia. Molte volte non si riconoscono all'interno del sistema dei finanziamenti e poi la ripartizione come viene fatta e quelli che sono le risorse l'impatto che queste risorse hanno sui territori. Stare insieme pensando comunque a uno sviluppo territoriale che preveda gli elementi fondamentali di uno sviluppo sia l'occupazione, gli investimenti e la risorsa che va su un territorio che ha bisogno di risorsa. Coesione è sviluppo di un territorio, è valorizzazione di un territorio è sistema di rete di un territorio che deve tendere a migliorare a rendere più efficienti le risorse finanziarie che arrivano sul territorio dalle risorse che sono appunto dell'Unione Europea.